Ovviamente le ambizioni da Liovedomo sono conosciute, non ci nascondiamo dietro un dito. Il nostro presidente di solito non schiera mai una squadra, non costruisce mai una squadra per far bene e basta. Abbiamo intenzione di rendere orgogliosa la città del nostro operato, faremo di tutto per lavorare, per dare il meglio in modo che questo accada. Oggi il primo allenamento è fatto al poscio di Villa D'Ossola. Sì, devo dire la verità che per me è particolarmente emozionante come cosa perché io abito a Villa, è una struttura bellissima, abbiamo vinto il bando, quindi per un po' di tempo ci alleneremo qui. Poi con il tempo collaboreremo insieme alle altre società di Villa D'Ossola e coesisteremo e sono sicuro che sarà una bellissima esperienza stare qui a Villa. Quale sarà il percorso di avvicinamento all'inizio del campionato? Avete già pensato a una serie di amichevoli anche importanti o qualche torneo? Assolutamente, iniziamo già mercoledì con il Gozzano in Val Vigezzo alle 18 perché volesse venire a dare un'occhiata alla prima amichevole fresca fresca.